La sicurezza non è mai troppa e i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara hanno organizzato un presidio grazie anche alla collaborazione con la prefettura e con il comune che ha erogato un contributo di circa 6.000 euro. Dal 22 luglio al 24 agosto, durante il weekend, dalle ore 10 alle ore 18, i bagnanti potranno contare su un servizio di soccorso acquatico coordinato dalla Capitaneria di Porto. Il presidio prevede la presenza di una moto d'acqua, quindi un mezzo molto efficace per garantire le massime condizioni di soccorso in caso di necessità nelle acque antistanti della città di Pescara. La moto d'acqua sarà guidata da un equipaggio composto da due unità, di cui un conduttore della moto d'acqua e un soccorritore acquatico. È dotata di una barella galleggiante di tipo rigido che consente ai soccorritori dei vigili del fuoco di poter recuperare la vittima, metterla in sicurezza, stabilizzarla e nel tempo necessario per portarla a riva e consegnarla ai medici del soccorso sanitario poter prestare le prime tecniche di soccorso sanitario che potrebbero essere determinanti per la vita della persona. Le moto d'acqua sono più che sufficienti e soprattutto rappresentano il mezzo più rapido. Da scongiurare la necessità di un elicottero, ma intanto i vigili del fuoco hanno voluto dare dimostrazione questa mattina della capacità di intervento del corpo. Vediamo l'elicottero perché vogliamo dare dimostrazione di quella che è la completezza del soccorso che i vigili del fuoco possono offrire alla popolazione in caso di qualsiasi necessità. È chiaro che la moto d'acqua si muoverà autonomamente nello spazio di competenza. Qualora necessario potrà far richiesta dell'elicottero che staziona presso il nostro nucleo elicotteri dell'aeroporto di Pescara che può alzarsi in volo e trasportare a bordo i sommozzatori perché nella malagurata ipotesi che la persona deve essere recuperata sott'acqua allora non è sufficiente più un soccorso di superficie ma bisogna andare in profondità e ci vogliono i sommozzatori.